Mio caro, dimmi come stai? Bene, bene, venivo qui in città e sono passato da te. Papà mi ha detto di non venire a trovarti, ma non potevo farne a meno. Pensavo non vivessi più qui. No, non sono ancora riuscito a trovare un posto migliore, ma ascolta, le cose mi stanno andando molto bene, Tonio. E di questo passo sai che ti dico? Non avrò mai bisogno del denaro di quel vecchio miserabile. Oh no, non parlare così del vecchio. Avrà i suoi difetti, ma è sempre nostro padre. Dai, saliamo, su, vieni. Di che cosa volevi parlarmi? Sono preoccupata, Teodoro. Proprio adesso che le cose cominciano ad andar bene, ti preoccupi? Supponiamo che zia Milù abbia trovato i gioielli e che tu riesca a pagare l'italiano. Dopo, come sistemeremo le cose? Non ti capisco. Ecco, mi riferisco alla situazione di Laura rispetto a questo ragazzo e rispetto alla gente. Che domande. Laura troverà una scusa plausibile. Gli dirà arrivederci e grazie e tutto tornerà come prima. E se zia Milù non avesse trovato i gioielli? Non dire sciocchezze. Non sarebbe la prima volta. Ti ricordi la storia del diadema? E quella volta quando stavamo per internarla e se ne uscì col famoso gioiello? Certo, però, questa volta deve essere vero. Perché quei gioielli devono pur stare da qualche parte, me lo hai detto tu stessa. A meno che... A meno che zia Milù non li abbia venduti di nascosto. Venduti, venduti come. Dopo la grande delusione d'amore, zia Milù è rimasta... Così. E i gioielli non si sono mai più visti. Va bene. Domani devo risolvere certe questioni a Buenos Aires e poi andrò alla fattoria. Sì, voglio vedere quella vecchia al più presto. Sì, sì, sì. Domani mi alzerò molto presto. Tu... Stanotte dormi nella stanza degli ospiti? Eh? Che domanda. Per favore, Teodoro. Che Laura e chi che non se ne accorpano. Non preoccuparti. Salveremo le apparenze in qualche modo. Perlomeno questo. Lascia stare, sono abituato a dormire anche sul piano dei cavalli. Io voglio che tu dormi in un letto comodo. Bella questa casa. È proprio deliziosa. Ti piace? Che domanda. Vorrei averla io, una casa come questa. Davvero? Forse era meglio andare in albergo. Che albergo? Niente albergo, voglio che tu dorma qua. Va bene. Ho molte cose da raccontarti. Sì? Sì, molte cose. La storia del mio fidanzamento. E tu... Tu dovresti ricordartela. Che vuoi che mi ricordi? Pensi davvero che possa ricordarmi di qualcuno di quelle parti? Dai. Le altre no, ma lei dovresti conoscerla. Chi è? Lei è bella, molto bella. È la più bella di tutte. È la figlia del padrone della fattoria Santa Regione. Guarda, l'unica ragazza che mi ricordo di quel posto è Rosita, che era veramente carina. Oh, ma lei è più bella di Rosita. Ah, sì? Sì, fidati. Non vive in paese, vive qui in città. Ah, sì? È molto ricca e di ottima famiglia. Ah, è ricca. Ha un cognome importante. Ah, ha anche un cognome. Due. Due cognomi. Sì. Senti una cosa, Tonio. Di che è stata l'idea del fidanzamento, tuo o del vecchio? Beh, guarda, a me lei è sempre piaciuta, da ragazzo. Ma è stato papà a combinare tutto. Ah, certo. Ah, Pancho, io... No, non chiamarmi più, Pancho. Qui in città tutti mi conoscono come Frank. Pancho è un nome da contadino, eh, Tonio? Hai cambiato nome? No, non ho cambiato nome. Non è questo. Solo che ogni volta che mi ricordo che sono figlio di quel vecchio, quando firmo con nome e cognome... Ah, beh, lasciamo perdere. Ma è terribile pronunciarlo per intero. Pronunciare cosa? Niente, niente. Parliamo del fidanzamento con la ragazza di buona famiglia che ha un cognome importante, Tonio. Senti, questa è una cantilena che il vecchio mi ha fatto per tanti anni, te ne sei accorto. Però, siccome con me non ha attaccato, ha cominciato con te e con te attacca. E anche abbastanza, eh? Ricordati una cosa, il vecchio ha queste idee in testa da un sacco di anni. Con me gli è andata male, perché io me ne sono scappato. Adesso tocca a te. Tonio, ecco il tuo caffè. Quanti fastidi, eh? Che fastidio, nessun fastidio. Beh, se avessi organizzato qualcosa per oggi, allora sì. Organizzato cosa? Beh, se avessi dovuto ricevere qualche visitina. Ah, donne, donne. Dimmi una cosa. Sì? Ci sono molte ragazze qui, molte. Ci si arrangia. Da noi, invece, la solita vita si finisce sempre con rosita. Ah, che la rosa, che la rosa, Tonio. E vuoi sapere una cosa? Si è fissata con me e sembra che le piaccia. Ah, sì? Sì, le piaccio davvero. Le piaci? Sì, sì. Le piaci tu e il denaro del vecchio. Che denaro, che denaro. Se non ha un soldo, ha solo quanto basta per tirare avanti. Certo, sì. Ed è quello che, giuro, ho sempre pensato anch'io in tutta la mia vita. C'è una cosa, Tonio. Il vecchio è un avaro, un meschino, credimi. E tu sei uno stupido che ti lascia abbindolare da tutto quello che ti dice lui, capito? Scherzi. Credi davvero che se il vecchio avesse dei soldi, io non lo saprei. Se non c'è un soldo in casa e viviamo col denaro contato. Spiegami una cosa, Tonio. Secondo te, perché il vecchio non vuole che tu venga qui a trovarmi? Perché ho litigato con lui? Perché abbiamo avuto una discussione? Perché gli ho disobbedito? No, quello di cui ha paura è che io ti apra gli occhi, Tonio. Aprirmi gli occhi? Sì, Tonio. Credi veramente che io... che io... Oh no, è impossibile. Se lui avesse dei soldi, lo saprei. Senti, anche io la pensavo come te molti anni fa. E finché un giorno mi mandò a riscuotere dei soldi che arrivavano dall'estero tramite la Banca Nazionale. E non so perché cosa lui avesse combinato, ma arrivarono a mio nome. A nome tuo? Sì, lui si giustificò dicendo che aveva fatto un affare usando il mio nome a causa delle tasse o qualcosa del genere. Ma il divertente, sai cosa fu? Che lui non sapeva quanto denaro sarebbe arrivato. Sai quanto era? Duecento milioni di pesos. Io pagai tutte le spese di banca. Ebbene, avanzavano qualcosa come due milioni di pesos e depositai il denaro che avevo preso arrivato dall'estero sul conto di papà e misi i due milioni sul mio conto. Dopotutto il denaro era arrivato a nome mio. Sì, sì, e allora? Lui mi disse di tenere la bocca chiusa. Mi disse che... che quel denaro non era suo, ma che era per un affare che doveva fare un suo amico. Mi raccontò una storia complicata. Io non die di molta importanza alla storia perché in fin dei conti a me interessava mucchiare un po' di soldi e non voglio, non voglio approfondire. Duecento milioni sono un sacco di soldi. Dove può aver preso tutto quel denaro? Non riesco a pensare... Si tratta di una storia di più di dieci anni fa. No, non è possibile. Non è possibile, non può essere. Non potevano essere suoi. Saranno stati per un amico, per un affare, ma non suoi. Questo mi piacerebbe saperlo. Da lì è iniziata la lite. Io non avevo molta esperienza, sai. Cominciai a spendere soldi. Il vecchio si insospettì. Andò in banca e... Quando si accorse che io avevo aperto un conto a mio nome, allora ecco, pretese che gli restituissi il resto del denaro. Ah, adesso capisco. Fu questo il motivo per cui litigaste. Io cominciai a sospettare che lui non sapesse quanti soldi fossero arrivati dall'estero. Lui pensava che poteva aver preso due milioni come qualsiasi altra soldi. Si arrabbiò. Mi sgridò. Litigò con me. Voleva sapere dove fosse il resto del denaro. Allora io me ne andai via di casa. E cominciai a pensare alla mia vita. Quel vecchio è un mascalzone. E l'odio che ha nei miei confronti... Sai da che deriva? Dal fatto che lui crede che io abbia messo le mani su un mucchio più grosso. Davvero, Pancho? Dico... Credi che sia così, Frank? Sì. E forse avrei fatto bene a farlo, sai. Perché la rabbia del vecchio sarebbe stata la stessa se io... Avessi preso 30 o 50 milioni di pesos. Non so che pensare. Se non fossi tu a raccontarmelo... Non ci crederei. Mi chiedo da dove può essere venuto quel denaro. Non so da dove si è venuto. Ma di una cosa sono più che certo. Quel denaro è arrivato a lui. Pancio? Pancio? Ma come dormi, accidenti? Pancio? Vado via perché devo riportare l'auto alla mia fidanzata e tornare alla fattoria. Ho il tuo numero di telefono. Appena ho un po' di tempo ti chiamo. Spero che in occasione del mio matrimonio tu e papà possiate fare la pace. Un abbraccio da tuo fratello. Ti voglio bene, Tonio. Un abbraccio da tua구. Ancora a te. A presto. A presto. Ah, buongiorno. Buongiorno. Sono venuto a riportare la macchina della signorina Laura. Sì, grazie. La signorina è già sveglia? Posso entrare? Prego, entri. Grazie. Permesso. Che cosa ridicola. Non bastava pedinarne uno. Adesso devo andare dietro anche ai parenti. Se lei non pagasse così bene e se io non avessi altri piani nei suoi confronti, manderei all'aria tutta la faccenda. Bisogna aver pazienza. Signora, finita, ho un messaggio da dare. Un messaggio? Sì, il signor Teodoro sta giù con quel ragazzo della rissa di ieri sera. Ah, cos'è Roberta? No, l'altro. Quello che corteggia la signorina Laura. Tonio? Ha già sicuramente venuto a riportare la macchina a Laura. Il dottor Teodoro vuole sapere se lei desidera andare alla fattoria insieme al ragazzo. È un'ottima idea. Hai già disfatto la valigia che ho riportato? Sì, ho messo a posto tutto. Ah, che peccato. Allora preparala di nuovo. Non voglio far aspettare Tonio. Laureta, si è svegliata? No, dorme ancora. Bene, allora vai a svegliarla e dille che c'è il suo fidanzato. Va bene, proverò a svegliarla. Insisti. Non so che mi succede oggi. Teodoro ha tanto insistito che io vada alla fattoria che non so proprio il perché. Bene. Vado a prepararmi. Con permesso. Non voglio far aspettare quel ragazzo. No, no, no. Verrò alla fattoria al più presto appena avrò risolto alcuni problemi qui. Viene per quei gioielli di zia Milù? Per i gioielli? No, no, no. Non è per quello. Sai, la storia dei gioielli è un problema di mia moglie. Sono gioielli antichi, molto antichi. Ma cose di famiglia. Capisco. No, no, no. Appena avrò sistemato certi affari in sospeso qui verrò subito alla fattoria. Ah, e poi devo anche parlare con tuo padre. Va bene. Arriverò per le cinque e le sei del pomeriggio, credo. Buongiorno, buongiorno. Ah, come va, signora Finita? Come sta, Tonio? Io bene, lei? Molto bene. Vengo a liberarla da ogni impegno, Tonio. Come? Sì, non vengo in auto con lei. Non posso più partire perché devo preparare la valigia e ci vuole un po' di tempo. Ah! Io avevo capito un'altra cosa, pardon. Va bene, l'aspetto. Ho un appuntamento, ma se lei non ci mette tanto tempo, l'aspetto. No, no, grazie. È che mi sono anche ricordata che oggi dovevo andare dal medico a farmi fare una ricetta per comprare delle medicine per zia Milù. Va bene, non insisto. Cos'è questa storia delle medicine? Ah, tesoro mio, stamattina ti sei alzato così presto che non ho potuto dirtelo. Sa, Tonio, noi ogni mattina siamo abituati a comunicarci i nostri programmi della giornata. Ah, è molto bello, molto bello. Come pensi di andare alla fattoria? Beh, penso... Non ci devi andare anche tu più tardi? Sì. Allora verrò con te. Faremo tardi se posso apprenderti. No! Chiederò a Lauretta di accompagnarmi in macchina fino al tuo ufficio. Ah, va benissimo, quindi posso andare. Vi aspetterò lì alla fattoria. Sì, questo è più che sicuro. Ah, mi dica signora, verrà anche Laura alla fattoria? Anche questo non lo so. Sa, è tanto occupata nei preparativi del corredo. E chissà, può darsi anche che venga. Sarebbe carino, no? Bene, io... Io vado, non vorrei rubarvi altro tempo. È già abbastanza tardi e devo fare... Ci arriva il distributore? Sì, ho visto un distributore qui vicino. Fino lì ce la faccio. Bene, ad ogni modo io nel pomeriggio verso le 6, le 7 passo per la fattoria a vedere se siete arrivati o no. Molto bene, Tonio. Arrivederci, a più tardi. Saluti suo padre. Ah, grazie signor Teodoro. Grazie signora. Perché non sei voluto andare con lui? Bene, perché devo preparare la mia valigia e andare dal medico a prendere una ricetta per comprare la medicina a zia Milù. Tu conosci le condizioni di zia Milù. Può fare qualsiasi pazia con quei gioielli. Era meglio andare subito alla fattoria. Ma certo. Ormai se a zia Milù è tornata la memoria e se ha ritrovato i gioielli, non c'è più nulla da temere. In fondo zia Milù non è tanto pazzo. A volte ha dei momenti di piena lucidità. Ha solo un po' di arteriosclerosi che le è venuta molto presto e che si è andata aggravando. Ho impressione che nella tua famiglia siano tutti un po' fuori con la testa. Signora Finita, la sua valigia è pronta. Portala su nella mia camera. Tonio è già andato via. Buongiorno signore, quanto ne mettiamo? Mi faccio il pieno, il pieno. Bene. Sì, ci risentiamo più tardi. Se ne va, ecco, chiamo dopo. Ciao. È un bel po' di tempo che quell'auto mi segue. Voglio vedere che cosa vuole da me. Accidenti, dove va quel matto? Devo correre, altrimenti lo perderò di vista. Deve essere quel tipo a cui ho spaccato la faccia ieri. Ma se ha intenzione di litigare avrà quello che si merita. Bastardo. Quel maledetto l'ha fatto apposta. No, non mi sembra affatto il tipo di ieri sera. Quel maledetto me la pagherà. Per poco non mi ammazzavo. La botta non è grossa, ma servirà a far quadrare i conti. Sarà come ha detto Pancio. Forse papà ha tanti soldi e Pancio ha detto che che mio padre voleva una ragazza altolocata per me. E se lei si sposasse con me per interesse. Per interesse. Perché non vieni con noi, Laura? Ma, ma per favore, a che serve che io venga alla fattoria? Spiegami che ci vengo a fare. Soltanto a sopportare quell'idiota che mi perseguita tutto il tempo. No, io desidero soltanto che... Per favore, papà, cerca di risolvere i tuoi problemi. Io mi sento male. Comunque, se Zia Milù ha trovato i gioielli, questo faciliterà molto la nostra vita. E se per caso Zia non li avesse trovati? La mia vita non può dipendere dal fatto che Zia Milù trovi i gioielli, no? Bene. Allora noi andiamo. Potevi già essere là. Dovevo comprare delle medicine per Zia Milù. Stai calma, tesoro. Sì, non ti preoccupare. Dà un bacio a Zia Milù da parte mia. Li lo darò. Certo, li lo darò. No, papà, per favore, fa qualcosa. Cerca di liberarmi da questo ridicolo fidanzamento. Sì, ma ho bisogno di venti giorni per risolvere tutto per sempre. Venti giorni. Non mi resta altro che pregare Dio che questi venti giorni passino rapidamente. Io mi rendo conto di quanto ti pesi tutto questo. Laura, ti sono davvero molto grato. Stai bene. Città, non sarebbe successo tutto questo. Laura, ce l'ha con me. Ma che vorresti dire che l'hai vista con i tuoi occhi per la strada mentre si stava baciando con un altro? No, non ho detto questo. Come no? È così, ma non è così. Sì, si stava baciando, ma lei non voleva che il tipo la baciasse. Gli ha dato anche uno schiaffone. E allora? Se avessi creduto che Laura baciasse quel tipo di sua volontà, beh, me ne sarei fatto una ragione e me ne sarei tornato a casa. No, me ne sono andato. Va bene. Questo significa che è una ragazza onesta. E la famiglia? Come ha reagito il dottor Teodoro con la signora Finita? Che hanno detto? Ah, sono d'accordo con me, ovvio. E Lauretta? Lauretta, lei ci è rimasta un po' male perché era un suo amico. Non so, forse ho esagerato e poi c'era un tipo che mi ha seguito con la macchina. Come ti ha seguito? Ha seguito te? Sì, mi seguiva, papà. Con la macchina? Certo. E perché? Non lo so, probabilmente per conto di quel tizio che avevo picchiato. Comunque l'ho seminato. Stammi a sentire. Secondo me tu avresti dovuto fare un discorsetto un po' più serio con il dottor Teodoro. Anzi, no, no. Hai fatto bene. Mi sembra un'ottima cosa che tu abbia lasciato tutto così di modo che io me ne possa occupare. Anzi, oggi stesso voglio cercare di fissare un appuntamento con il dottor Teodoro. E le cose cominceranno a prendere una piega più chiara. Va bene? Sì. Sai, oggi devono venire alla fattoria, sai, per quella faccenda dei gioielli dell'azia Milone. Ah, i gioielli? Ah, ah. Anche questa dei gioielli mi sembra una storia da manicomio. Tonio, tu che hai visto quei gioielli e che hai partecipato in qualche modo ai discorsi al riguardo, i gioielli sono di valore? Dall'interesse che hanno suscitato penso di sì. Avevano gli occhi così. Per me non hanno nessun valore. Stai tranquillo che anch'io comincio ad essere più tranquillo. Mi sembra che la situazione si stia ieri no. Oggi stesso voglio fare quattro chiacchiere con il dottor Teodoro e sistemeremo ogni cosa, vedrai. Sì, sì, sta tranquillo. Papà. Che c'è? Dovrei chiederti un piccolo favore. Sì, che cosa? Io non ti ho mai chiesto niente, ti accontento su tutto. Sì. Ma adesso ho bisogno di farti una domanda. Bene, che domanda? Tu pensi che io piaccia a Laura? Voglio dire, pensi che lei si è fidanzata con me per altre ragioni? Papà, la verità.